Se volete acquistare i crediti FIFA andate nei link in descrizione fifagredits.com Bene ragazzi sono Dario e sono tornato con un nuovo video di FIFA 14 sulla serie dei mondiali E dopo le prime due partite che come vediamo qui abbiamo vinto tutte e due 3-1 e 3-1, proprio preciso Dobbiamo giocare l'ultima partita ma anche se contiene a poco Perché comunque ormai penso che il girone abbiamo passato e giocheremo anche gli ottavi Perfetto, siamo passati, comunque vada Da quello che vedo Questo c'è una bella squadra, vabbè perché naturalmente il tempo è andato avanti E io non ho più giocato fino a che non devo registrare Io lo sto registrando il giorno prima che vedete il video Quindi ieri lo stavo registrando Quindi capite che è passato già una settimana Ma a Banda di Cianciano cominciamo a giocare Questo subito col bug, sta merda Taglia, 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 tagliato Palonotto Nacin Non mi chiedete chi è, è un olandese Che è una peggia perché fuori un sacco E 1-0 C'è Ma bene Oggi io che co che stavo a fare salpenghidis No viglia chi è Comunque ragazzi un like per chi pensa che questa squadra è doppio più forte della vera Italia E sono pur sempre re per migliori di Moreno C'è No Adio non so come è andata finita Mennaggia in starnutio Tagliela Narsing Tagliela Narsing Il tuo sei del Nato La metti in mezzo per salpenghidis Come hai fatto a non segnare Anderwisher Vai col contropiede Vai col contropiede Vai che è partito salpenghidis Vai sul lato Rientra Bella Ma che cazzo hai tirato Ma che è sto tiro No non ce lo posso credere Che cos'era questo tiro Questo era un buon fatto era Vai Aoko Fa riparti il contropiede Fa la pezza anticasorla Sotto c'è Narsing Guarda che è partito casorla Aoko cioè Il tiro di Aoko Mazzacaffietto Il tiro Aker Non so che è 3-4 Taglie così Taglie Ci accendiamo a chiudere il girone Con punteggio pieno E' una sorpresa il Granastim No E' passato Grande Mignolet Paratone di Mignolet ragazzi Grandissimo Ancora Mignolet 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 Rientra David Biglia Lo prova da lì Ma oddio Chi sta dentro Raga David Biglia Se ce l'avete Usate il tiro a giro Che è una bestia E finisce qui Vai così 9 punti In 3 partite 3-1 3-1 2-0 Si passa agli ottavi Come prima del girone Ragazzi Ci vediamo subito Alla prossima partita Da quella più importante Agli ottavi Dai Allora Prima di cominciare con gli ottavi Come avete consigliato in molti Riaprire il pacchetto Che mi danno Quando vinco la partita Quindi lo apriamo subito Vediamo chi ce sta Anche se da quello che ho capito Qua c'è stato stato un giocatore Quindi è un po' la merda Però vabbè Dai attenzione Pianic Porca troia Ma sì Mi servivi Pianic Mi servivi Anche se hanno fatto una pippa Però vabbè Ti mandiamo subito la rosa Tabello di torneo Ovviamente ci vede agli ottavi E siamo pronti con questa partita Degli ottavi Dai è così Eccolo qui Abbiamo trovato un tedesco Ok Gioca partita Attenzione Speriamo che non ha una grande squadra Ti prego Ecco lì il tabellone Siamo agli ottavi Ragazzi Dimmi che c'è una squadra E merda Insomma Vabbè Comunque non è Non è forte Per forte è una di prima Poi se lui è forte De su Non lo so Adesso lo vediamo Comunque Dai Dai è così Siamo agli ottavi Ragazzi Non possiamo più Sbagliare Niente Abbiamo vinto tutte le partite Adesso Se vogliamo vincere il mondiale Dobbiamo continuare a vincere tutte Ma che c'è il motrice Che è passato Prova il tiro Troppo 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 No No Mannaggia la madosca Oh io lo sapevo Io lo sapevo Porca droga No Non ci posso credere Ho tre partite vinte Senza problemi Mai sofferto Invece no Arriga gli ottavi E ti sei in culo Ovviamente Vai Vai Santi Vai Santi Ma che ti sei mangiato No Vabbè Che sfiga E piscina pure la fine Tutto a mezzo E che cazzo Cioè stiamo approvando tutti i modi Porca sozza L'amici Non vinti entra Ma io quanto va veloce il tempo Quando verdi Oh Lidia No Non ci posso Vendere la tarletta No No Non ci voglio Vendere Non ci voglio pensare Come se va Non è possibile Non è possibile Sento questa partita È stregata È stregata Vabbè Tanti casò Gabaglie Il tiro Ha preso pure questa Vai Gabaglie Te prego Nasccia Mannaccia Che cazzo hai fatto Ma che liscio era Guarda che culo Non sa manco lui Quello che sta a fare Non lo sa Manco lui Non lo sa Io quello All'89 Non ci voglio credere Daglie così Daglie cazzo Daglie Mamma mia Aguero All'89 Rientriamo Rientriamo Dalla porta principale Sì che ci voleva Cazzo Vai Si vai supplementare Ragazzi Che fatica Che è stata Riprendere sta partita Guardate Io vi vorrei far vedere Le statistiche Non ci posso credere Tu ti rimporta Riuscito a fangol Dai che è partito Laveci Dai Laveci E che cazzo Guardate Non tocca Non ai rigori Dai Aguero Dai che è partito Laveci Dai Laveci Ti prego Ma a tenere Laveci Rientra ancora Laveci Il tiro Prete Laveci Mamma mia Me ne posso andare Mamma mia Laveci Grazie Grazie Che emozioni Che emozioni ragazzi Che emozioni Questo è il mondiale Mi sembro carezza I tempi d'oro del 2006 Però è così Io Cerca 2x1 Girardino Ventana L'appietro 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 Mamma mia, sì, dai! Ho risultato più per questo fuorigioco che per gol, cioè non riesco neanche più a parlare. Guardalo, Potric, c'è il Navecci, da chi chiamava per terzo, Navecci! No, non so chi era, però va bene così, non fa niente, è finita, è finita! Due a uno per i Grananas, che vanno ai quarti! Che partita, raga, che partita! Mamma mia, bravi tutti! Adesso andiamo a spostare subito il pacchetto, anzi no, lo sbussiamo al prossimo episodio, che facciamo la partita dei quarti, lo sbussiamo lì, mi raccomando, non mancate che partita! Lasciate un like per questo, e questo è il video, bella!